Gabriele Esposito tra i maestri chiamati dall'Accademia di Danza Arabesque di Campobasso per questa full immersion nella danza. Prima di tutto ti chiedo come è andata questa due giorni dove hai incontrato tante allieve vogliose di imparare? Innanzitutto ringrazio loro che me l'hanno chiamato perché veramente, a parte che in Molise non c'ero mai stato, poi devo dire che le ragazze comunque si vede che vengono spronate sempre quindi a noi maestri risulta più facile, il lavoro diventa molto più facile e comunque si vede che hanno una base molto forte quindi diciamo che ci viene più facile lavorare con loro, ci divertiamo di più e veramente le vedo molto vogliose di fare, vengono, fanno delle domande, diciamo fanno venire la propria voglia di fare lezione quindi questo non è proprio da tutti. Tu sei giovanissimo però ti chiamai un maestro e alle spalle c'hai anche tra l'altro un'esperienza già importante perché nel 2015 comunque hai vinto anche Amici di Maria De Filippi quindi un talent show televisivo che va molto in voga e comunque è un vero e proprio trampolino. Amici mi ha aiutato tanto, crescere psicologicamente, fisicamente, ballettisticamente e diciamo mi ha aiutato veramente tanto perché vedi molte cose diverse, fai tante cose diverse, lavoro ogni volta con dei professori diversi, Amici è stato veramente per me una cosa importante perché non è da tutti fare un'esperienza così, che secondo me dovrebbero fare tutti ma perché proprio per un fatto di crescita, un fattore di crescita molto importante e quindi veramente mi ha aiutato tanto. È pur vero però che per quanto riguarda la danza sono importanti anche le basi, so che tu hai iniziato che eri comunque piccolo, sei anni. Sei anni, sì, quindi un bel po' di tempo fa e ho iniziato alla fine a Torre Annunziata, quindi una piccola città veramente mi ha dato una buonissima base che purtroppo non tutti hanno, in generale nelle scuole è difficile trovare una scuola che ti aiuti così tanto. Bisogna trovare i maestri giusti ed è difficile, però devo dire che una volta e poi per esempio come qui in questa scuola tra i due maestri buoni che ti aiutano e ti incoraggiano ad andare sempre avanti, i risultati si vedono e i ragazzi sono belli e forti. È importante però anche, sono importanti anche le esperienze nazionali e anche internazionali, so che comunque anche tu hai avuto molte... Sì, sono andato in Canada prima di andare ad Amici, una volta finito Amici ho avuto la fortuna di lavorare con Emma Marrone nel tour, poi sono andato in Francia in Pregio Caci, in compagnia, poi ho finito in compagnia, sono venuto qui, ho fatto due programmi televisivi che sarebbero sia music che furore e adesso ho fatto i music award con Emma, poi sono andato a New York per l'ambasciata italiana in America, diciamo che sto facendo belle cose, mi sto divertendo, diciamo.